Ciao a tutti, io sono Marco e ho deciso di fare una serie di video in cui andrò a spiegare quali sono le figure che sono dietro al mondo del DJ. Partiamo appunto da questo video andando a spiegare chi è il tour manager e cosa fa. Il tour manager innanzitutto è quella persona che vedete sempre insieme al DJ, lo vedete dietro al DJ durante la sua performance o di fianco. È quella persona che accompagna l'artista durante i tour e aiuta nella gestione del tour. Sfatiamo subito il mito che sia il lavoro più bello del mondo. Confermo che è un lavoro sicuramente bellissimo per le persone a cui piace essere nei club, nei festival e viaggiare. Ma vi dico subito che probabilmente non è un lavoro tanto bello quanto sembra. Stiamo veramente tantissimo tempo in viaggio tra auto, aerei, treni e quant'altro. Consideriamo che per raggiungere una destinazione partendo da casa propria molto spesso ci vogliono anche 7-8 ore. E sto parlando di destinazioni all'interno dell'Europa perché magari non c'è il volo diretto, magari perché l'aeroporto di arrivo è lontano dall'hotel, gli aeroporti non sono mai in città, sono sempre fuori città. Quindi non è proprio semplice come si possa pensare. Il viaggio è gran parte del lavoro. A me piace molto viaggiare, mi piace molto il mio lavoro di tour manager e quindi mi reputo fortunato a poterlo fare. Negli ultimi 4-5 anni ho visitato circa 43 paesi in tutti i continenti, mi manca solo l'Oceania e sicuramente questo è una delle parti belle del mio lavoro. Però poi ci rendiamo conto che durante i tour non si ha mai del tempo disponibile per poter girare la città, per vedere le parti più belle, che siano le opere, musei, piazze o quant'altro. Se arriva abbiamo giusto il tempo per la scena e poi si riparte il giorno dopo per un'altra data. Come dicevo appunto, il tour manager è quella persona che è sempre col DJ e lo accompagna durante il tour. Il tour può essere formato da un semplice weekend, si parte il venerdì, abbiamo venerdì una gig, sabato sera un'altra gig in un'altra città e la domenica si torna. Oppure un vero e proprio tour in cui uno va dall'altra parte del continente come può essere in America, sta lì 2-3 settimane e poi torna indietro. Poi dall'altra parte ci sono i tour estivi che possono durare anche 3-4 mesi. Per quanto riguarda i DJ più famosi e più richiesti, solitamente l'estate partono a giugno o a maggio addirittura e torrano a settembre presso la loro dimora invernale diciamo. Alla base del lavoro del tour manager c'è la fiducia. Senza la fiducia è impossibile lavorare perché l'uscita del tour dipende molte volte dalla prontezza, della velocità con cui il tour manager è capace di risolvere i problemi che si creano. Cioè gli imprevisti, tutto viene organizzato prima ma ci sono sempre gli imprevisti da affrontare. Come può essere un treno in ritardo, un volo cancellato, la timetable all'interno del festival che viene modificata perché manca un DJ. Sono tutte cose che non si sanno prima ma che si sanno soltanto alla fine. Il lavoro del tour manager si divide in due fasi principali. La prima frase è la fase di controllo in cui andremo a controllare che all'interno dell'itinerario ci sarà tutto. Mentre la seconda fase è quella di gestione del tour durante il suo proseguimento. Nella prima fase, in quella di controllo, noi riceveremo dall'agenzia un file che si chiama itinerario. Più nel dettaglio è un pdf. All'interno di questo pdf ci saranno tutte le informazioni necessarie per quella determinata IG. Se parliamo di un tour vuol dire che riceveremo un itinerario per ogni singola IG. All'interno di questo itinerario, come dicevo, ci sono tutte le informazioni. Partiamo dal numero del volo, dal numero della prenotazione, numero dei sedili prenotati all'interno del volo, numero di tutti i driver, cosa molto importante ci ritorneremo dopo, numero del promoter e del suo assistente, timetable della serata, nome dell'hotel e nome del ristorante. Una volta che abbiamo controllato che all'interno dell'itinerario ci siano tutte le informazioni necessarie, andremo a contattare il promoter. Dobbiamo farci dare un'ulteriore conferma dal promoter che il tech rider sia approvato e che i numeri dei driver siano tutti esatti. Molto importante che i numeri dei driver siano esatti perché ci sono almeno sei spostamenti da dover effettuare per ogni gig. Dall'aeroporto all'hotel, dall'hotel al ristorante, dal ristorante all'hotel, dall'hotel al club o al festival, dal club al festival all'hotel di nuovo e poi dall'hotel in aeroporto, dove poi si prende il volo per arrivare alla destinazione che può essere la città per un'altra gig oppure per tornare a casa. I driver, nella migliore delle ipotesi, sono solo uno, cioè un driver che fa tutti e sei gli spostamenti. Nella peggiore delle ipotesi ci sono sei driver diversi, quindi dovremo avere il numero di tutti e sei i driver. La seconda fase invece è quella del tour, dove il nostro compito è far sì che il tour continui il suo proseguimento senza nessun particolare problema. Torniamo di nuovo alla parte dei driver, dove ci dobbiamo assicurare sempre che ogni driver sia puntuale, quindi circa mezz'ora prima del pickup andremo a contattare il driver che deve effettuare quel pickup e gli chiederemo conferma dell'orario a cui deve arrivare. Questo per far sì che l'artista non aspetti in hotel o al ristorante o da qualsiasi altra parte che il driver debba arrivare. Ma nel caso in cui si parte dall'hotel per andare per esempio al club, l'artista scenderà solo quando il driver è già pronto. E nel caso in cui ci sia ritardo, il nostro compito è comunicare all'artista che il driver è in ritardo e grazie a questa comunicazione l'artista scenderà all'orario esatto in cui il driver arriverà. Parte fondamentale, ma non necessaria per tutti, è il soundcheck. Il soundcheck è quell'operazione che viene effettuata prima della serata, prima dello show, solitamente prima di scena, in cui il tour manager va a verificare che tutto sia ok per il setup dell'artista. Solitamente viene effettuata solo per chi suona con i vinili, perché richiedono una maggiore accuratezza. E' importante verificare che tutto sia ok prima dello show e non durante, perché se c'è da sostituire un giradischi è un'operazione complicata, diciamo, e va effettuata prima e non in corso d'opera. Nel caso in cui invece l'artista suona con tractor o con CDJ, è un'operazione che si può benissimo evitare e si andrà al club direttamente la sera prima dello show. Quando si arriva al club per lo show si fa accomodare l'artista nei camerini, che di solito sono presenti anche nel club e non solo nei festival, e il tour manager va diretto verso il DJ booth, più comunemente chiamato console, e inizia a montare la strumentazione necessaria al DJ. Se l'artista suona solo con i CDJ è molto semplice perché dovremo solo infilare le chiavine all'interno dei CDJ. Mentre se suona con tractor dovremo montare e collegare laptop, cioè il computer, la scheda audio, i controller e tutto andrà collegato e deve essere funzionante. Andremo a verificare appunto alzando un canale, che ovviamente non sta usando il DJ che sta suonando, per vedere se è tutto funzionante. Una volta che è tutto pronto per l'inizio dello show andremo a chiamare l'artista e lo faremo arrivare appunto in console. Il nostro compito è far sì che l'artista sia nelle condizioni ideali o comunque migliori possibili per il suo show e per la sua performance. Dobbiamo stare attenti alle persone che magari tendono ad avvicinarsi troppo all'artista, è una cosa molto comune. Vi assicuro che in console succede veramente di tutto e questa è una delle parti principali. Anche se sembreremo antipatici verso le persone che tendiamo ad allontanare, è una parte molto fondamentale. Dovremmo assicurarci che l'artista avrà sempre il bicchiere con quello che preferisce bere di lato dalla console. E' sempre pieno in modo che non debba pensare lui nel momento in cui ha sete a riempire il bicchiere, ma quello è un compito che dovremmo fare noi. Altra parte importante è la parte delle foto e dei video. Solitamente i tour manager hanno in mano il telefono dell'artista da cui fanno tutte le storie o si ha accesso ai profili social in cui si possono effettuare le storie con il proprio telefono. Andremo a fare anche varie foto e video che insieme a quelle fatte dal club o dal festival andranno selezionate dal social media manager dell'artista che deciderà quali sono le più idonee per essere caricate sui profili social del DJ. Finito lo show, si smonta tutta l'attrezzatura e solitamente si va subito in hotel. Questo succede perché viaggiando tanto e dormendo poco, tutte le ore possibili per stare a riposare in hotel sono fondamentali. Perché se uno show, per esempio, finisce alle 5, tra smontare l'attrezzatura e raggiungere l'hotel saranno almeno le 6 e poi dovremmo ricordarci che il giorno dopo dobbiamo partire per un'altra gig. In aeroporto bisogna arrivare almeno un'ora e mezzo prima, quindi le ore per dormire sono sempre veramente poche. Dietro di me avete visto scorrere delle immagini, sono le foto del Decibel Open Air dell'ultima edizione dello scorso anno che ringrazio appunto per averci dato l'autorizzazione di utilizzare. Se avete domande a tubi lasciateli in basso nei commenti, ci vediamo settimana prossima per un altro video. Ciao!